Partiamo dalla riete. Oggi procedete un po' in salita. Routine poco scorrevole e questioni familiari di cui dovete occuparvi con più attenzione. Mostratevi più accomodanti con le persone che vi sono care. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano. Godetevi una giornata lieta, ricca di emozioni, nuovi progetti in famiglia, sensazioni rassicuranti. Gemelli, cielo nel complesso sereno, ambiente professionale collaborativo. Rientro in atteso di crediti, opportunità in campo immobiliare. Attivatevi. Mettete il massimo impegno nel lavoro. Cancro, anche se per timore opponete resistenza, una nuova e romantica storia d'amore ha tutti i numeri per guarire le vostre ferite del cuore. Modificate quello che non vi piace di voi. Leone, i vostri soldi sono al sicuro, pertanto se avete da fare richieste, approfittate del momento positivo. L'importante sarà la massima chiarezza. Se sentite l'esigenza di ritirarvi un po' dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità. Vergine, positivo questo sabato, che si preannuncia tranquillo e sereno, ideale per una rimpatriata in famiglia. Bilancia, la giornata non vi trova di buon umore. Qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Confidatevi, affidandovi in toto alle mani esperte di un amico. Arriverà meglio di voi alla soluzione. Scorpione, le stelle addolciscono i vostri sentimenti, mettendo la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. I colleghi sono tutti dalla vostra parte. State dimostrando che il vostro acume è sicuro e affidabile. Sagittario, fortunatamente per voi è il momento dell'armistizio. Oggi, appoggiandovi al vostro consueto ottimismo, ripartite con il passo giusto. Capricorno, oggi qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciare sbollire, ignorando il vostro nervosismo. Acquario, la giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Finalmente, un traguardo importante si sta avvicinando a grandi passi. Pesci, sabato ricco di impegni e di opportunità. Riuscirete a dividervi equamente fra le gioie dell'amore e i doveri del lavoro. Fervente immaginazione, tra amicizie e amore, le distanze si accorciano fino a diventare tutt'uno.